Novità nell'ambito del lavoro agile dal 1 settembre. Si preannuncia infatti uno snellimento dal punto di vista burocratico per i datori di lavoro. Gli stessi potranno comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori smart working insieme alla data di inizio e fine della prestazione di lavoro in modalità agile. Non ci sarà più dunque l'obbligo di comunicazione del singolo accordo individuale, accordo che comunque disciplina lo smart working di ciascun lavoratore. La non adesione di quest'ultimo comporta il lavoro in presenza. E' stato emanato, così come viene anche annunciato nel sito del Ministero, il decreto ministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di attuazione della norma contenuta nel DL Semplificazioni, pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale, e cioè il 19 agosto. Con la modifica si prevede la riformulazione della rubrica dell'articolo 23 della legge 22 maggio 2017 e del primo comma della medesima disposizione, si precisa nel comunicato. E poi ancora si legge, è un primo passo con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile, anche alla luce dell'esperienza maturata, durante la pandemia. E si risponde ad una specifica richiesta fatta dalle parti sociali nel Protocollo Nazionale sul Lavoro e Modalità Agile per il settore privato. Nel comunicato si fa riferimento al protocollo siglato il 7 dicembre del 2021.